inizialmente questo video doveva essere dedicato solamente alla diatriba tra virgolette tra il ct della nazionale francese de champ e il nostro tecnico josé murigno ma ho deciso di ampliare il discorso anche ad una critica assurda possiamo dire che i francesi hanno fatto nei nostri confronti giudicandoci razzisti solamente perché in squadra non abbiamo nessun giocatore di colora differenza loro in cui si contano i giocatori bianchi pur essendo la nazionale francese ma con calma ci arriveremo un passo alla volta prima di tutto volevo affrontare appunto la discussione che c'è stata tra murigno e de champ per quanto riguarda il ruolo diciamo nella francia nell'europeo 2020 anche se si sta giocando nel 2021 prima vi dico le parole dei due allenatori e poi le analizziamo insieme murigno innanzitutto ha fatto una lunga intervista parlando esclusivamente dell'europeo dicendo in merito alla roma che analizzerà nell'italia spinazzola cristante e pellegrini tra l'altro non nominando florenzi il che mi fa pensare che o si sia dimenticato che il giocatore rientra dal prestito dal pari saint germain oppure che non fa parte dei suoi piani per la roma del futuro ma in caso ne parleremo in un prossimo video per non ripetersi oltre a ciò ha parlato anche della francia ovviamente e queste sono state questa è stata una piccola parte del suo discorso la francia ha tre squadre praticamente non ha punti deboli ha dichiarato a san murigno devono vincere altrimenti sarà un fallimento quando hai imbappé non puoi non pensare di vincere la risposta immediata di de champ è stata josé ho pensato lo stesso del suo tottenham ma alla fine non è andato come previsto innanzitutto complimenti per la simpatia e per essere completamente tranquillo per aver dato una risposta proprio di quelle mamma mia di una pesantezza allucinante cioè allora non ha detto nulla di che sia chiaro però queste risposte proprio così stizzite possiamo dire fanno cadere le palle possiamo dire anche se il discorso di murigno non è almeno per me giusto in tutte per tutto nel senso che è vero che la francia è la favorita mi pare ovvio una squadra che può contare su gente come mbappé benzema griezmann e non vi sto a dire tutti perché sennò il video dura 20 minuti è normale che rispetto alle altri abbia qualcosa in più non per questo però si deve considerare un fallimento se non dovessero portare a casa la coppa tutti quanti sappiamo che le coppe sono competizioni che non sempre vedono vincitrice la squadra favorita perché sono un punto interrogativo rispetto magari ai campionati un campionato è vero magari può regalare sorprese come l'Eister ma essendo 38 partite per quanto riguarda la serie A perlomeno difficilmente ci può essere una sorpresa clamorosa rispetto magari a una coppa in cui una squadra magari fortunatamente magari facendo solamente tempi supplementari mi pare che lo fece il paraguai qualche anno fa o addirittura il portogallo quando vinse l'europeo del 2016 non mi vorrei sbagliare con un po di fortuna ti ritrovi in finale la finale è una partita secca segni un gol con un tiro e ti porti la coppa a casa il campionato invece è un discorso un po' a parte per questo motivo non penso che se la Francia non dovesse vincere l'europeo dovrebbero fustigarsi e dire no che schifo che vergogna anche perché non sono l'unica nazionale forte che fa parte dell'europeo c'è anche la Germania c'è anche la Spagna ci siamo anche noi seppur in tono minore quindi non sono d'accordo col discorso che se non vince un fallimento un po' per quanto come per come riguarda la Juve e la Champions quando è arrivato Ronaldo è un discorso un pochino simile tutti quanti abbiamo detto tifosi non bianconeri che con l'arrivo di Ronaldo alla Juve la Champions doveva essere obbligatoria altrimenti si parlava di fallimento secondo me non è che se non vinci la Champions vuol dire che la stagione è fallimentare è vero che magari prendi un giocatore per fare quel salto in più a livello europeo ma sappiamo bene che non basta solo quello non basta prendere solo lui quindi di principio non vincere quella competizione non è che ti rende una squadra disastrosa perché ci sono tanti fattori da considerare e poi dipende anche come porti avanti il percorso ad esempio sarebbe un fallimento se la Francia uscisse ai gironi se dovesse uscire ai gironi sì che sarebbe stata un'annata fallimentare se non la dovessero vincere anche arrivando secondo terzi secondo me non è una cosa così grave è una cosa che ci può stare la risposta di The Champ però mi ha fatto veramente cascare le palle cioè prima di tutto perché non ha il minimo senso ho pensato lo stesso del suo Tottenham come come hai potuto pensare che il Tottenham preso da Mourinho avrebbe potuto vincere la Premier League o diventare una delle favorite cioè non si ricorda io l'ho riscoperto ancora di più guardando la serie tv all or nothing per l'amor di dio ma sapevo che il Tottenham prima di prendere Mourinho era nella merda anche perché se tu non sei nella merda non cambia allenatore in corso d'opera mi pare una cosa normale il Tottenham era quattordicesimo quindicesimo era dall'altra parte della classifica come fai tu a pensare che con l'arrivo di Mourinho diventa subito la squadra da primo posto è normale è un allenatore vincente un allenatore che ha vinto tanto che porta esperienza porta ma non basta solo lui è normale l'allenatore è forte ma se combatti contro squadre come Manchester United Manchester City Chelsea Liverpool eccetera eccetera non può bastarti solo l'allenatore se tu poi hai tanti infortuni e comunque inizi già con un deficit importante ottenuto con l'allenatore precedente fare tanto di meglio è difficile infatti quell'anno il Tottenham arrivò quinto è vero l'anno dopo ha fatto male ma intanto era arrivato in finale di coppa poi persa con un nuovo allenatore quindi non posso pensare che il paragone Francia europei è uguale a quello tra Tottenham e Premier League perché il Tottenham non aveva le potenzialità per poter reggere il percorso delle altre anche perché poi aveva iniziato così tanto male che pensare di vincere subito era difficile quindi è un paragone che non sta né in cielo né in terra sono proprio quelle classiche cose che quelle classiche risposte che dai quando ti dà fastidio semplicemente il commento di un'altra persona poteva semplicemente dire secondo me che non basta avere la squadra forte per vincere una competizione o perlomeno giudicare la stagione fallimentare se non dovessero portare la coppa a casa punto e basta invece no doveva per forza mettere la frecciatina all'ultima esperienza fallimentare di Mourinho tanto per dirgli che parli a fare tu che hai fatto schifo col Tottenham una risposta un poco con poco stile diciamo cioè io al posto suo mi sarei rivolto in maniera decisamente diversa anche perché per quanto il discorso non sia del tutto corretto si poteva magari gestire in modo più maturo possiamo dire quindi Mourinho magari non ha detto una cosa esattissima almeno secondo il mio punto di vista ma Deschamps veramente ha dato una risposta del cazzo e adesso arriviamo alla questione francesi che ci giudicano razzisti tra l'altro vi consiglio di andare a vedere anche il video di Pablo Giallo Rosso a riguardo perché ha detto cose giustissime io non la voglio portare troppo avanti voglio solo dire una cosa se tu pensi che noi non mettendo neri in squadra giocatori di coloro in squadra siamo razzisti sei tu il primo ad esserlo perché tratti diciamo la parte degli uomini di ragazzi di colore come dei diversi come dei diversi adesso vi faccio un esempio che in pochi potranno capire avete mai visto il film quasi amici non so se l'avete mai visto tratta di quel ragazzo di colore che aiuta il milionario sulla sedia a rotelle a farlo star bene a vivere bene a stare bene con se stesso perché lui lo ha scelto non perché fosse capace anzi era totalmente incapace ma perché lo trattava come un essere normale faceva battute rideva scherzava gli faceva anche le battute sulla sedia a rotelle ma lo trattava normalmente non con discrezione non con paura non con come come possibile come come dire a poveraccio lo trattava come come fosse uguale a lui e così deve essere anche il nazionale un giocatore per meritarsi la nazionale deve dimostrarlo sul campo che sia bianco nero giallo viola o fucsia beh fucsia magari meglio che si fanno controllati dal dottore però è per farvi capire che non serve il colore per giudicare un giocatore ma quello che fa sul campo come mai nel 2012 balotelle era titolare davanti eravamo meno razzisti adesso siamo più razzisti non è che se noi cioè voi siete proprio un'eccezione perché tra tra comunque i neri che tra i turchi quelli di origine turca quelli di origine africana tutto quanto voi siete pieni di giocatori di colore ma non per questo siete una squadra contro il razzismo e noi invece a favore avete tanti giocatori di colore non perché se non siete razzisti ma perché la gente di colore è forte pugba mbappé anche se mbappé più sul cioccolato al latte ecco una piccola battuta non ve la prendete è per farvi capire che un giocatore i giocatori di colore voi ce l'avete perché sono forti non perché siete contro anche perché poi anche perché poi cioè a che senso avrebbe mettere dei giocatori di colore squadra che magari non sono forti come giocatori bianchi i giocatori bianchi di colore non è che si distinguono per il colore della pelle ma per le loro capacità sul campo quindi se l'italia se l'italia quest'anno ha non ha giocatori di colore a emerson palmieri che è mezzo mezzo ma a parte lui poco non vuol dire nulla non vuol dire nulla non vuol dire un cazzo vuol dire che magari quei giocatori si sono meritati più spazio rispetto a loro oppure questa è una frecciatina perché ken non è stato convocato al posto di raspadori forse gli ha dato fastidio sta cosa hanno detto è ken solo perché è nero non lo convocate altri invece si può darsi anche perché mi viene in mente perché adesso facendo il video sto ragionando ma c'è qualche nero che abbiamo escluso che sarebbe dovuto venire ken ci sarebbe potuto stare ma non parliamo di un fenomeno come ho detto nel video dedicato poteva essere convocato al posto di raspadori sì ma non è che se non c'è ken l'italia fa schifo c'è capito il senso del meglio scorso no quindi è un'esclusione che ci poteva stare e giudicare l'italia razzista per una cosa di questo tipo è veramente assurdo sul campo si giudicano le qualità dei giocatori e non il loro colore perché facendo questo si fa ancora più discriminazione nei loro confronti punto e basta fatemi sapere invece voi nei commenti cosa ne pensate io devo accendere il climatizzatore perché l'ho acceso per 20 minuti ma adesso sto soffrendolo vedete come sto grondando per 10 minuti che sto facendo un video non ne posso più datemi un ufficio mobile datemi un ufficio che posso portare al lavoro che posso usare per fare video va bene ragazzi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate ci vediamo più tardi per un nuovo video di calciomercato molto molto importante un aggiornamento importante per quanto riguarda la questione attaccante non vi dico nient'altro vi invito a lasciare un mi piace a questo video se siete d'accordo con la mia opinione a scrivermi nei commenti cosa ne pensate e a seguirmi anche su tutti gli altri miei profili social e link per trovarli ovviamente sono qua sotto in descrizione un saluto e al prossimo video ciao ragazzi ciao ciao ciao